Questa sera proseguono le iniziative per l'esposizione delle reliquie di Santa Bernadette. Alle 21 saremo nella sede dell'Unitalsi Fano. Ci vengono riportate dall'Unitalsi di Urbino e ci sarà il Santo Rosario, la sede in via del torrente numero 3 dietro la chiesina della Trave. Domani 5 maggio alle 6.30 il Vescovo Monsignor Armando Trasarti celebrerà la Santa Messa nella cappellina dell'ospedale Santa Croce di Fano. Durante la mattina poi due volontari porteranno le reliquie a far visitare a tutti i degenti, quindi ci sarà questa processione per i reparti dell'ospedale. Poi alle 11.30 la recita del Santo Rosario e alle 12.30 il saluto delle reliquie con il canto del Regina Cieli. Alle 16 arriveremo invece all'Istituto Casa Penelope che si trova in strada San Michele di fronte all'aeroporto dove ci sarà un momento di condivisione con i ragazzi e i loro familiari. Alle 18 arriveremo invece alla parrocchia della Santa Famiglia di Fano per la recita del Santo Rosario. Il giorno successivo, martedì 6 maggio invece, il nostro Vescovo guiderà un pellegrinaggio riservato ai sacerdoti e ai religiosi e religiosi anziani al Santuario di Loreto. Durante questo pellegrinaggio porteremo le reliquie con noi e poi laggiù le consegneremo al Cardinal Menichelli perché ci sarà in quell'occasione la riunione della Conferenza Episcopale Marchigiana. È bello avere con noi il nostro Vescovo perché è proprio il delegato del Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Marchigiana. Quindi questo incontro fra l'unità che si occupa dei malati, le reliquie di Santa Bernadette che è la santa appunto del santuario dove c'è la maggior affluenza di malati e del nostro Vescovo che è delegato per la Pastorale della Salute è qualcosa che ci fa piacere e anche tanto onore.